Quest'apparecchio è in grado di elevare esclusivamente dal punto di vista qualitativo, quindi non quantitativo, dalle anfetamine, cannabinoidi, oppiaci, diverse sostanze, quasi tutte, lo spettro delle sostanze stupefacenti normalmente in uso. Dopo l'etilometro scende nelle strade retine anche il drogometro, apparecchiatura che consentirà attraverso l'esame della saliva di verificare in pochi minuti l'eventuale assunzione di stupefacenti da parte degli automobilisti. Arezzo sarà la prima provincia in Toscana ad utilizzare questa nuova apparecchiatura in dotazione alla polizia stradale. Siamo stati inseriti in un programma nazionale che ci consente di utilizzare questa nuova apparecchiatura che giustamente attraverso un'analisi e un sistema non invasivo che va sulla saliva, si fa contestualmente sulla strada, dà una certezza in termini, almeno nell'immediato, qualitativi del fatto che il conducente sta guidando under, cioè sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La verifica è esclusivamente qualitativa, quindi si potrà dire cosa è stato assunto e non quanto è stato assunto. In caso di positività si fa un successivo prelievo di altri due campioni di saliva con altri due tamponi, dopodiché vengono conservati all'interno di due singole provette, sigilate singolarmente ed inviate il giorno successivo a questo laboratorio del Centro di Ricerche di Laboratorio di Tossicologia Forense di Roma della Polizia di Stato che entro sette giorni lavorativi darà una risposta effettiva sulla positività. Il drogometro, dopo una prima fase di sperimentazione che si è svolta quest'estate, verrà utilizzato nella notte di Halloween. La Polizia effettuerà controlli tappeto in gran parte della provincia, insistendo in particolar modo nelle zone prossime ai locali notturni. Un'attività veramente importante che vogliamo pubblicitare proprio perché serve da prevenzione affinché l'uso dell'autovettura avvenga sempre nelle migliori condizioni psicofisiche.